Amici benvenuti in un primissimo episodio di Minecraft, ovviamente essendo il primo episodio ci andiamo a fare utensili base, pala, ascia e tutte le cose varie, ovviamente ci andremo a fare la prima nostra casettina, perciò non perdetevi questo primo episodio che fidatevi sarà incredibile. Ok, allora amici ho fatto dei progressi, ho fatto una bella casa, bella illuminata, per ora ci siamo fatti anche un letto, ho preso anche del cibo, fortunatamente abbiamo trovato le pecore e niente, nel prossimo episodio faremo anche il terreno, grazie a tutti per essere passati, ci vedremo nel secondo episodio. Amici benvenuti nel secondo episodio del gameplay di Minecraft, come starete vedendo ho fatto qualche progresso, niente di incredibile, purtroppo non sono ancora riuscito a fare tutto il terreno, ma come vedete siamo riusciti finalmente a trovare l'iron. E non solo l'iron, ovviamente vi ho fatto qualche taglio, non vi ho fatto vedere le parti noiose, però in questa cesta ho messo tutti i blocchi, che fortunatamente incredibili sono stato fortunatissimo off camera, sono riuscito a trovare, ho ucciso anche qualche animale, niente di che, e sono riuscito a farmi anche le spade e tutto il set base. Ho anche creato una nuova zona nella casa, incredibile, non ve l'ho fatta vedere perché è la parte più noiosa, vi faccio vedere la parte finita, ovviamente, e ho fatto appunto anche una zona per incantare. Qui volevo fare le pareti e lo stile un po' diverso, però non ho abbastanza blocchi per decorare, e non sono neanche riuscito a rincantare le cose e neanche l'armatura, purtroppo, perché non ho trovato abbastanza lapislazuli. Sfortunatamente con i materiali, con il mining sono stato un po' sfortunato, questi qua per ora li teniamo da parte. Ok, ora però vi voglio far vedere il progetto finale che ho fatto off camera, in caso lo continueremo nel terzo episodio, ovvero sono riuscito ad ampliare un po' il villaggio. Il terreno della casa, purtroppo, ce lo teniamo così, vabbè, sarà per un'altra volta. Comunque, signori, usciamo dalla nostra casettina e, come vedete, ho fatto un progetto, ovvero ho costruito un castello medievale, l'ho fatto off camera perché registrarlo non mi sembrava molto carino e interessante, Comunque, questo è la zona fuori dalla mia casa. Come vedete, l'ho espansa molto, ho fatto un castello medievale, lì c'è la mia casettina, è ancora un po' base. Non sono molto bravo a costruire, però, vabbè, l'ho lasciata così, imbarazzo un po' a parlare della mia casa iniziale, ma vabbè. E, come vedete, ho fatto anche tutti gli interni. I materiali e i blocchi che sono riuscito a trovare sono stato fortunatissimo, ho trovato sia qualche mob che anche i minerali nelle caverne, ne ho trovati tantissimi, anche la spiaggia. E, come vedete, sono riuscito a potenziare il castello. Ma va bene, dai, allora, non voglio annoiarvi troppo con l'esplorazione della mia costruzione. In caso, in un terzo episodio, scrivetemi voi cosa fare. Per ora ce ne torniamo nella casettina e speriamo che in un prossimo episodio di riuscire almeno a trovare l'apislazione. Grazie mille per essere passati e ci becchiamo in un altro video. Ciao!